Ogni giorno ci viene detto che dobbiamo stare con i piedi per terra. Perché nella vita reale non c'è posto per i sogni. Nulla di più di emotivante e per di più falso. A causa di stress e preoccupazioni quotidiane ci siamo ridotti a una visione materialistica della vita. Dimenticandoci la presenza di una cosa chiamata coscienza. Lo studio ed il lavoro sono importanti, ma devono essere funzionali alla costruzione del nostro io interiore. La nostra anima. Ognuno di noi è qui per un motivo. Una missione. Sta a noi trovare la forza e la volontà di intraprenderla. La vita è un percorso. Cosa riserva? Non si sa. Ma si può scegliere di seguire la nostra luce.